Sabato 15, domenica 16 e sabato 22 dicembre in più di 3000 piazze in tutto il territorio italiano sarà possibile ricevere il cuore di cioccolato e rispondere presente all'appello a cui tutti siamo chiamati. Partecipare attivamente alla campagna di sensibilizzazione per supportare la raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare di Fondazione Teleton per stare vicino a chi è affetto da queste patologie alle loro famiglie con un gesto d'amore e di solidarietà. In tutte le regioni saranno allestiti i banchetti dove saranno distribuiti i simbolici cuori di cioccolato. Anche Salerno parteciperà alla raccolta in tutti i comuni della provincia come illustrato questa mattina nel corso di un incontro con la stampa tenuto nella sede del villaggio Guido Scocozza dal coordinamento provinciale della Fondazione Teleton e dalla sezione provinciale dell'Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare WillDM di Salerno. 28 anni di raccolta da 11 anni esiste un coordinamento della Fondazione Teleton qui a Salerno. Abbiamo la fortuna di avere un'ottima sinergia anche con la sede salernitana dell'Unione Italiana per la lotta ai distrofia muscolare che oggi ci ospita all'interno di questa conferenza stampa. È importante raccogliere, lo stiamo facendo con grande efficacia, ma è anche importante, come riassumevi nella domanda, riuscire a spendere in modo corretto. Il richiamo delle ricerche finanziate dalla Fondazione Teleton sulle pubblicazioni internazionali è superiore alle migliori università del mondo. Pensiamo per esempio all'Università di Harvard, vuol dire che si è bravi nella raccolta e di questo dobbiamo ringraziare tutti gli italiani che ogni anno affiancano la raccolta per la Fondazione Teleton, ma la Fondazione è brava anche nel gestire le risorse in modo corretto per fronteggiare, combattere ed eliminare definitivamente le malattie genetiche. Quest'anno siamo sempre nella top 10, siamo intorno al nono posto per la raccolta nazionale, vicini a grandi città come quella di Torino e davanti a centri del nord come Padova, Verona e Salerno ha sempre risposto in modo assolutamente efficace. L'anno scorso credo fossimo al sesto posto, quindi è importante ritornare nella top 5 a questo punto, quindi un impegno anche da parte di tutti i salernitani e coloro che abitano nella provincia di Salerno a partecipare quest'anno alla Maratona Teleton. Come UILDM, Unione Italiana lotta alla distrofia muscolare, la sezione di Salerno è sempre in prima linea. Questa è la 29esima edizione di Teleton e la fondazione di Teleton quest'anno con le famiglie della UILDM e di tutte le persone che hanno comunque una malattia genetica rara vogliono lanciare l'appello alle persone che possono essere presenti, perché questo in effetti è il messaggio che quest'anno si lancia, persone presenti, presenti con le donazioni, con le donazioni nei punti vendita, perché in effetti noi con queste donazioni doniamo dei gadget, doniamo degli omaggi tipo i poli di cioccolata, candele, proprio per lasciare un segno a chi fa la donazione, sperando che ci siano tante donazioni per poter affrontare ciò che in effetti è l'obiettivo, anche perché la Teleton sta avendo dei buoni riscontri con queste manifestazioni che ogni anno facciamo e che comunque non finisce con questa settimana dal 15 al 22 dicembre, però è tutto l'anno che in effetti si fa Teleton.